Prosegue nella zona della Valle Caudine, in particolare ad Airola, in Moiano ed altri centri il campionamento di aree e suoli per stabilire i vari livelli di inquinamento provocati dal maxincendio, divampato negli stabilimenti Sapa mercoledì 13 ottobre scorso. Da questa mattina nelle campagne di Airola, oltre al personale ARPAC, sono scesi in campo anche i tecnici dell'ASL, che hanno avviato il campionamento delle colture, in particolare delle olive ormai pronte per la raccolta, che però resta vietata in attesa dei risultati delle analisi. In campo l'Associazione degli Agricoltori, la CIA in particolare, ha chiesto un tavolo tecnico in prefettura per cercare di accorciare i tempi per il via libera. Le olive ormai che sono quasi a maturazione completa rischiamo di perdere tutto il racconto. Allora il tavolo della prefettura era per chiedere all'ASL se si può iniziare a fare le analisi del prodotto olio e non delle olive, perché sulle olive non abbiamo una tabella di riferimento rispetto ai parametri che loro cercano. Si spera ora che le analisi possano confermare la qualità del prodotto, altrimenti si dovranno intraprendere altre strade. Poi se non è buono si possono anche raccogliere e deglassare a olio e lampande.